Il Consorzio Val di Denari scrive al Sindaco di Portoferraio Mario Ferrari e chiede che sia revocata l'ordinanza che riguarda il traffico dei mezzi pesanti sul ponticello della strada, che elevava da 150 quintali a 400 il carico del peso che i mezzi potevano avere per il transito. Un provvedimento che non ha mai convinto i membri del Consorzio, che dopo un quesito presentato dalla Capogruppo Pellegrini in Consiglio Comunale senza risposta, si sono rivolti direttamente al Segretario Generale per conoscere la legittimità delle ordinanze emesse e da cui hanno dedotto una condotta del Sindaco che definiscono abusiva. Il potere di ordinanza, scrivono infatti dal Consorzio, secondo quanto ci riferisce il Segretario Generale, poteva aspettare solo al Comandante della Polizia Municipale o al Dirigente o Funzionario dell'Ufficio Tecnico. Fanno presente inoltre che anche il Difensore Civico aveva ritenuto inadeguata la motivazione dell'ordinanza, fondata su una perizia di parte, mai verificata da parte del Comune e in ogni caso non condivisa dal Consorzio. Chiedono quindi la revoca delle ordinanze, che hanno prodotto sulla strada già molto danno, precisano, avendo consentito il traffico ad auto betoniere del peso di 40 tonnellate, attraverso un collegamento stradale al nostro avviso non regolarmente istituito tra la nostra via e il cantiere Peppe Sghinghetta. I lavori al cantiere attualmente sono sospesi da un'ordinanza a firma dell'architetto Fontani, ma potrebbero riprendere senza che, fanno ancora presente gli abitanti della zona, ne siano attuati requisiti essenziali, vale a dire che siano realizzate opere di urbanizzazione primaria, strada di accesso e condotta fognaria. Il timore del Consorzio è anche che una volta terminate le costruzioni, dicono si pretenda per necessità la soluzione di riversare il traffico dei nuovi abitanti sulla nostra strada e di servirsi della nostra condotta fognaria, opere entrambe che non potrebbero reggere questo carico. Pregano quindi il Sindaco di adoperarsi perché non venga concessa una nuova autorizzazione a costruire, prima che strada e fognature, come prevede la legge, siano state realizzate, cosa che danneggerebbe sia gli abitanti che hanno aderito al Consorzio Val di Denari che gli acquirenti dei nuovi alloggi, nonché, in prospettiva, la collettività, favorendo unicamente la società attuatrice dell'intervento.